Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come diventare da una mozzarella a una persona abbronzata. In questo periodo magari ci sono alcuni vostri amici che stanno iniziando ad andare in vacanza, stanno iniziando ad andare al mare, magari voi non riuscite o nei giorni in cui siete liberi piove perché, lo so, questo periodo, quest'anno sta piovendo tantissimo. Quindi il risultato si può simulare con il make-up. Oggi vi faccio vedere come fare. Ricordatevi comunque che non possiamo, non lo so, passare da me a nomi Campbell, cioè l'effetto deve sempre essere naturale, non può essere qualcosa di snaturalizzato, si dice così, non lo so. Non possiamo estremizzare questo effetto abbronzato se poi realmente siamo di una carnagione chiara. O comunque non possiamo rendere il viso troppo scuro se il corpo comunque è chiaro, creeremo uno stacco che risulta visibile. Ricordatevi che dobbiamo sempre lavorare con quello che abbiamo, dobbiamo valorizzarci, ma non dobbiamo sembrare dei pagliacci, non dobbiamo esagerare con l'applicazione del trucco. Una cosa molto importante, che sono sicura che tantissimi di voi che stanno guardando fanno, la terra non si applica su tutto il viso. Ragazzi, mi raccomando, è una cosa che io vedo fare, non spesso di più. La terra non si applica sul viso per due motivi. Uno, sembrereste un'umpa-lumpa, o comunque il vostro viso diventerebbe di un color arancione carota, e due, perché in questo modo andate a schiacciare e ad appiattire il vostro viso. Invece oggi vi faccio vedere come si applica la terra per dare un effetto abbronzato al viso, allo stesso tempo mantenere un viso tridimensionale, quindi magari avere anche gli zigomi in evidenza, e, insomma, senza renderlo piatto. Spero che questo video possa esservi utile, senza chiacchierare di più, vi dico tutto all'interno del tutorial, vi lascio alla realizzazione. Iniziamo dal nostro viso mozzarella, cioè ho fatto la mia base, ho applicato fondotinta correttore cipre, poi ovviamente ho realizzato il trucco degli occhi, sul viso non ho nient'altro. Primo consiglio, se volete sembrare leggermente più abbronzati, potete applicare un fondotinta più scuro, ma attenzione, il fondotinta deve essere di una mezza tonalità più scura, cioè non si deve vedere che il fondotinta sia più scuro della vostra pelle, una volta sfumato dovrebbe sembrare più o meno dello stesso colore. Quando fate una cosa del genere, cioè applicate un fondotinta più scuro, ricordatevi di sfumarlo sempre verso il collo e verso le orecchie, non vogliamo assolutamente che ci sia uno stacconetto qui e che si vedano le nostre orecchie o il nostro collo più chiaro del nostro viso. Questa cosa può venirci incontro anche se ad esempio come me utilizzate il Clarisonic, esfoliate molto il vostro viso o comunque applicate una protezione molto alta sul viso rispetto a quella che mettete sul collo, di conseguenza viso e collo possono risultare più chiari del resto del corpo. In questo caso ovviamente quando ci abbronziamo dobbiamo applicare sul viso un fondotinta che riporti il colore del viso più o meno a quello del nostro corpo. Passiamo al secondo step, vi consiglio di applicare un mix di due terre, io ne utilizzo una in crema e una in polvere, in questo modo il risultato abbronzatura sarà più naturale che se applichiamo solo una terra in polvere. Potete farlo assolutamente solo con una terra, però vi ripeto, se applicate un mix di queste due sicuramente il risultato sarà molto più naturale. Questa terra che utilizzo io è la Scut & Glow di Model Zone ed è una terra in crema bellissima. Questo qui è il colore Golden Glow 05, io l'applico con la spugnetta ma si può applicare tranquillamente anche con il pennello. Come si fa? Si preleva in questo modo, vedete con il lato della spugnetta, non esce fuori, questa spugnetta già l'avevo utilizzata per sfumare il correttore. La spugnetta non preleva tantissimo prodotto ed è questo che mi piace di questa terra in crema, è facilissima da usare e si sfuma bene ed è facilmente applicabile sia sotto sia sopra il fondotinta. Mi raccomando, ricordatevi di applicarne poco alla volta perché facciamo sempre in tempo ad aggiungere, ma poi andare a togliere diventa un casino, quindi mi raccomando andiamo sempre per step. Allora, inizio ad applicarla all'attaccatura dei capelli, solitamente magari la metterei più che altro qui, la concentrerei nella parte esterna, questa volta la porto più in avanti e l'applico di più anche nella parte centrale in questo punto. Ricordatevi comunque che dobbiamo lasciare il centro della fronte più chiaro perché in questo modo l'effetto sarà più naturale e sarà molto più bello e mi raccomando ricordatevi che dopo dobbiamo applicare anche la terra in polvere, quindi non fate tutto quello che potete fare con la terra, cioè non scurite solamente con questa, ma appunto ricordatevi che dobbiamo applicare anche l'altra. Questa parte scura la faccio scura qui all'attaccatura dei capelli e sullo zigomo, cioè se sento con il dito o con il pennello, sento dove c'è l'osso zigomatico, diciamo lo metto più o meno da quella zona e lo sfumo verso l'alto. Deve essere, diciamo, più o meno applicato dove applichiamo la terra e il blush solitamente. Non mi fermo solo qui, ma porto leggermente la terra anche più avanti, mi raccomando, deve essere una cosa molto molto leggera. Questo perché quando ci abbronziamo il sole lo prendiamo su tutto il viso, non soltanto sulla zona esterna, anzi lo prendiamo molto spesso più sul naso e in questa zona rispetto che sul resto del viso, perché questa zona è quella più sporgente. Quindi ricordatevi di non fermarvi qui, ma di proseguire anche in avanti con pochissimo prodotto, non si deve vedere la strisciata arancione. E andiamo anche leggermente sul naso. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Io ho il fiatone, oggi sto parlando velocissimo, credo, ho anche leggermente il naso tappato. E scusatemi se in questo video sembro particolarmente stanca, ma è perché lo sono, perché questa notte ho combattuto con due maledettissime zanzare e ogni volta che accendevo la luce scomparivano. Non riuscivo a trovarle e mi hanno svegliato, non lo so, 50 volte. Alla fine le ho uccise tutte e due quelle maledette, però insomma non ho dormito così tanto. Ora, l'effetto abbronzato dobbiamo portarlo anche nella parte inferiore. Come per il fondotinta non ci dobbiamo fermare nella zona della mandibola. In questo momento ci siamo fermati nella zona degli zigomi. Quello che facciamo sempre con la stessa terra, andiamo leggermente verso l'orecchio sempre, per non creare il famoso stacco, e scendiamo qui nella zona della mandibola. Attenzione ragazzi, perché qui la terra deve essere applicata con mano davvero leggerissima. Se avete bisogno scaricate un po' la spugnetta sul dorso della mano e poi applicatela. Il motivo è perché se ne applichiamo troppo e se si vede la strisciata scura in questa zona, potremmo andare a ricreare l'ombra della barba maschile. Di conseguenza il nostro viso potrebbe sembrare più mascolino, anche se non lo è. Quindi mi raccomando, mano leggerissima. E siccome vogliamo portare l'effetto abbronzato, come vi dicevo prima, anche verso il basso, proseguo con la stessa terra, sempre con mano leggera, ad applicarla nella zona del collo. Il collo, nella maggior parte dei casi, è più bianco del viso e del corpo. Questo perché quando prendiamo il sole, quando camminiamo, sul collo ci facciamo ombra con il viso, quindi il collo è quello che si abbronza di meno di tutti. Come per tutte le parti del viso, mi raccomando, applicatene poca alla volta. Non vogliamo creare delle macchie o delle zone in cui si vede che abbiamo applicato più terra che in altre. E mi raccomando, non fermatevi qui, ma magari con la spugnetta andate leggermente anche verso dietro. Ricordatevi che quando facciamo queste cose, dobbiamo sempre evitare di creare stacchi netti o righe nette. Dobbiamo sempre ammorbidire ogni linea che creiamo sul viso e sul collo. Se avete i capelli corti, specialmente, ricordatevi di non fermarvi qui, perché dietro si vede che c'è un pezzo più chiaro e il resto più scuro. Ma con la spugnetta magari vi tamponate un po' così in giro e si creerà una riga sfumata. Anche questo passaggio è completato, adesso passiamo all'applicazione della terra in polvere. Qualsiasi terra va bene, ricordatevi che deve essere una terra arancione, non tortora, perché in questo caso andiamo a ricreare proprio l'effetto abbronzato del viso. Quindi dobbiamo andare a simulare un po' il colore della pelle che abbiamo quando si abbronza. E ricordatevi sempre di prendere una terra opaca o satinata, mai glitterata, mi raccomando ragazzi. Prendo un po' di terra con il pennello, mi raccomando non andate mai direttamente così ad applicarla sul viso, perché nel momento in cui poggiate il pennello sul viso, il pennello rilascia grande quantità di prodotto e rischiate di fare le macchie. Quindi scaricate sempre un po' il pennello sulla mano, qui sul polso, sul dorso, dove volete. E come per la terra di prima, cercate di applicarne poca alla volta, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo. Inizio dal collo, perché a me piace così, potete iniziare da dove volete. Calcolate che andiamo a mettere la nostra terra negli stessi punti dove abbiamo messo l'altra terra in crema. Anche qui la sfumo un po' verso il décolleté, soprattutto se avete una maglietta scollata e portate... cioè cercate sempre di sfumarla un po' ovunque. Se avessi avuto una maglietta così, ovviamente mi sarei fermata qui. Continuo ad applicarla qui all'attaccatura dei capelli. In questo momento mi trovo bene ad applicare la terra con questo pennello, che in realtà è un pennello specifico per la cipria. E se ci fate caso, non vado a strofinare il pennello, ma lo vado quasi a tamponare, vedete? Anche qui passo dove ho applicato la terra prima, scendo leggermente verso la mandipola, scarico bene il pennello, passo sul naso e qui dove siamo passati prima. Dobbiamo cercare quasi di creare, vedete, una W. Più facile di così. Quando applichiamo la terra solitamente, diciamo, creiamo un 3. Questa volta creiamo un 3 più una W qui al centro del viso. Se vedete che magari in alcune zone risultano troppo chiare rispetto a dove abbiamo applicato la terra, potete sempre andarci con il pennello scarico, così un po' in giro, quello valutate voi, se magari, che ne so, vedete che il mento è troppo troppo chiaro, ci passate leggermente sopra e in questo modo andate ad uniformare il colore di tutto il viso. Anche questo step è completato, adesso applichiamo il blush. Cercate di, anche questa volta, scegliere un blush che sia del colore di quando la vostra pelle si arrossa leggermente. Ora vi faccio vedere il motivo. Prendiamo un bel pennello ampio, comunque il pennello con il quale applicate il blush. Anche questa volta scarico il pennello e quello che vado a fare, vado, diciamo, a ricreare un effetto di pelle leggermente arrossata. Ovviamente deve essere lieve, però in questo modo sembrerà come se ieri fossimo andati al mare e invece non l'abbiamo fatto, quindi la nostra pelle sembrerà essere leggermente arrossata e appunto avremo l'effetto di aver preso realmente il sole. Passiamo leggerissimamente qui nella zona della fronte. Vi ripeto ragazzi, il pennello deve essere quasi completamente scarico di prodotto, più di quando abbiamo applicato la terra. E mi raccomando, in questo momento il prodotto deve essere rigorosamente opaco, non deve assolutamente essere né satinato né glitterato, glitterato assolutamente no. Passiamo leggermente sugli zigomi, quasi come se applichiamo un blush normalmente. Però vedete che l'effetto è quasi impercettibile. Quello che si nota poi è l'insieme. Anche questa volta passo leggermente qui nella zona della mandibola, però vedete che vado un po' in modo generico su tutto il viso, perché vi ripeto, la nostra pelle in questo modo sembrerà essere leggermente arrossata, come se avessimo preso il sole. Scendo anche questa volta verso il décolleté. Cosa super importante, l'applico qui sul naso, perché vi ripeto, faccio sempre la famosa W. In questo modo sembrerà realmente che ho preso il sole in questa zona. Ora applico sulle labbra un rossetto, lo applico di un colore caldo, sempre per riprendere tutti i colori caldi aranciati di pelle abbronzata del viso. Non c'è assolutamente una regola, potete applicare il rossetto che più preferite. In questo caso ho scelto questo qui, che è Ludwig di Kat Von D. Potremmo fermarci qui a questo punto e il risultato, vedete, sarebbe naturale, carino, e la nostra pelle sembrerebbe abbronzata. Però se naturalmente quando vi abbronzate vi escono le lentiggini, è una cosa che a me succede qui nella zona del naso, quando mi abbronzo mi escono un sacco di lentiggini, potete andarle a ridisegnare. Come fate? Prendete una matita per sopracciglia, un brow pot o una matita per occhi, però la matita per gli occhi solitamente è troppo scrivente per fare questa cosa, per questo motivo consiglio una matita per sopracciglia, e sceglietela di un colore che sia medio e caldo, perché le lentiggini sono marroncine e leggermente arancioni, dipende poi a seconda dei casi, però generalmente quello è il colore. Secondo me Mercury di Nabla è il colore perfetto per disegnare le sopracciglia, e quello che vado a fare è semplicemente a fare dei piccoli puntini sul mio nato, nella zona intorno al naso, e poi li vado a tamponare con il dito, per scolorirli e per non renderli troppo troppo precisi. E voilà ragazzi, questo è il risultato terminato, spero tanto che questo video possa esservi stato utile, soprattutto se i vostri amici stanno già andando al mare in vacanza, e voi siete ancora lì a lavorare, o comunque non riuscite ad andare al mare. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare, o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Ciao!